ciao a tutti ragazzi sono Emanuela Rossi sto effettuando un trattamento di one to one sulla mia modella ovvero vado ad applicare una ciglia su ogni singola ciglia della mia modella fino a completarle tutte quante come potete notare separo la ciglia e vado ad applicare la mia extension prima di iniziare il trattamento ovviamente c'è tutta una fase preparatoria dove andiamo a sgrassare le ciglia da eventuali residui di trucco in modo che la ciglia rimane attaccata il più possibile in un periodo molto più lungo sto utilizzando una misura c 0 10 dove ci indichiamo la curvatura e 0 10 lo spessore della ciglia l'effetto che sto creando è quello di effetto butterfly e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che il trattamento vi piaccia, l'effetto finale e grazie per avermi seguito. Grazie a tutti.